Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sto per tornare da Action, quindi questo sarà uno shopping vlog. Oggi hanno messo delle novità in negozio, ci sono delle offerte interessanti che spero di trovare perché ho già spulciato un po' il sito. Ovviamente vi porterò con me, quindi ci vediamo tra un attimo in store. Allora, vediamo le novità in questa settimana. Light Chain, cambile. A questo mi piace. Coloring Pencil, 46 matite colorate in offerta. A 4 euro. Quante penne? A 69 centesimi. Questa è per la macchina per il ghiaccio, no? 1 euro e 35. Quante penne? Qui ce ne sono tantissime. 48. Penne in gel. 3,89 euro. Canvas a forma di cuore. Questa valigetta in legno è bellissima. 18 euro. Ci sono tantissime cose interessanti in offerta, tipo le spazzole. 1 euro e 29. Questi, 2 euro e 99. 5 paia. Oh, la fascetta. 99 centesimi. Minusprima delle principesse. Ottimo prezzo. Maschera per le labbra. 45 centesimi. Il profumo questo. Il profumo di bambi è 2 euro e 49. Queste sono altre maschere delle principesse. Vediamo. Vediamo. Che be' è questo che io ho preso, però è un'offerta adesso 1 euro e 11 per i dolori. Quante matite ne hanno messe tantissime? 2 euro e 24. 1 euro e 44. Questo è 99 centesimi. Wushitape ne hanno aggiunti altri. Vediamo se già c'erano. Questo. 1 euro e 75. Eppure questa. Bella questa colore di fetta così. Tutti questi team ne ha 2 euro e 59. Spiegate l'inchiostro questo. Cioè, c'è così. Quanti wushitape? 3 euro e 33. 24. Belli anche questi set da scrivania. Forse è 1 euro e 95. Via Gen. 1 euro e 99. Già queste le avevo viste nell'altro video. Sono aggiunto anche queste scatole. 3 euro e 22. Belli i design. Questi sono adorabili. 8 mini evidenziatori. Da 1 euro e 9. Altre penne. Pennarelli. Un super offerta. Questi sono molto belli. E 2 do. In varie fantasie. 99 centesimi. Bello questo. Diario segreto. Con il lucchetto. Carino. 2 euro e 45. E' bello anche questo. Mi piace molto la fantasia. 1 euro e 35. Bella questa. 1 euro e 99. Sono belle grandi. Bellissima questa fantasia qui. Queste sono tutte novità che l'altra volta non c'erano. Le tazze animaletti. Hanno cambiato gli animaletti. Questi sono molto carini. Mi piace tantissimo il gattino sinceramente. E costano 1 euro e 99. C'è anche il cagnolino dietro. E poi ci sono queste. Un po' vintage. Particolari. Decorate. E anche l'oro 1 euro e 99. Molto carini questi. A 3 euro e 99. Particolari anche questi. A 99 centesimi. Fanno sempre delle cose molto molto carini. Queste sono fatte di sale. Tipo come la lampada di sale. Solo che se poi c'è umidità iniziano a sciogliersi. Belli anche questi. Ed ecco qui tutte le cose per Pasqua. Questi coniglietti sono bellissimi. 7,95. Le candele 2,49 che sono quasi terminate. Altri coniglietti. Questi in euro 3,23. Questi in euro 3,93. Sono bellissimi. 2,79. Poi ci sono questi. 2,49. Questi 1,79. 99 centesimi. E le uova. Alzatina. 8,95. Altre candele tutte colorate. Mi piacciono molto questi colori pastello. 2,49. Coniglietti 1,99. Coniglietti 1,99. Molto carini anche questi. 2,49. Queste uova. 2,99. Dentro hanno i led. Si accendono. E vassoi. 1,99 e 2,99. Molto belli anche questi. Super particolari. A 5,95. A 5,95. Oppure questi. Anche questi molto belli. 7,95. Cornici. Quadri. Questi non ce li avevano. Sono nuovi. 4,99. Altre cornici. Belli anche questi. 2,49. Ho questi su. Altre cose sempre per la casa. Vassoi. I prezzi sono sempre bassissimi. Bello questo. In bambù. 3,98. Molto particolari questi. Bassoglietti vari. Bicicletta. E questi in mazzo lungo e piccolissimi. 2,99. Buddha. 4,99. Questo è grandissimo. Wow. Altre decorazioni. Per Pasqua. A 99 centesimi. Poi ci sono queste. Il legno. Carinissime. Varie sfumature. Ovviamente piace quella con rosa. 1,67. Altre decorazioni da appendere. 73 centesimi. Bella la farfalla quella con verde. Pure questa. 1,72. Tovaglietta. Per Pasqua. A 99 centesimi. Questi vassoi. Sono adorabili. Questo è bellissimo. E anche quello lì. Oppure questo con tutti gli arcobaleni. A 1,79. Molto belli. Anche questi qui. A 1,99. Le uova che si illuminano. 2,49. 1,79. Candele. 1,49. No. Questi li adoro. Dentro hanno tutti i clipper. 1,79. 1,79. Ma ne hanno altre. Queste uova con dentro i coniglietti e i led. 1,79. Le uova per poter fare l'albero di Pasqua. 1,79. Poi ci sono i diamond tenting. 1,59. Questi. Eppure questi qua. Per creare tutte le uova decorate. 1,39. I canvassi da dipingere. Questa è la decorazione. 49 centinaia. Questi 65. Gli stampini. 1,49. Molto belli anche questi. Questo è il legno. Questa si persa. Il basso. Bella il tuo lavoro. Colorare e decorare. Il puzzle. Carine. Quanto non ho mai sentito sì. Anche qui ci sono dei puzzle. No. 2,49. 2,49. Ci sono anche tantissime cose dedicate a San Valentino, ovviamente. le tazze con il panda che è carino e cioccolatine. 2,49 euro. Eppure queste. 7 centesimi. Lecca lecca. Le scatole di cioccolatine. Sono rimaste gli ultimi due di San Valentino. 5,95. Lo soggetto. Ho lo scrittello qui. 2,49. Scatole. 1,64. Questi che sparano tutti i cuoricini. 99 centesimi. Palettina. Makeup. Con tutti gli ombretti dentro. 2,99 euro. Moschere. Viso. 69 centesimi. Altre scatotine. 1,99 euro. Notebook con penna. Carinissimo questo. C'è anche la passione con tutti i cuoricini. 1,99 euro. Penna con i cuoricini. Per luciosi. 89 centesimi. Petali di rosa. Vari colori. 83 centesimi. Palloncini gonfiabili. 99 centesimi. Altre palloncini. A 2,99 euro. Queste quindi erano tutte le cosine che ho visto in negozio. Veramente tante cose molto molto belle per Pasqua e ovviamente anche per San Valentino. Ma quelle di Pasqua secondo me veramente adorabili. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Come sempre vi ringrazio per averlo guardato. Pollice in su se lo avete apprezzato. Mega bacio. E spero ovviamente di rivedervi anche in un mio prossimo video. Ciao!